Benvenuta Chiara Monzio Compagnoni, direttamente da Vimercate qui a Santa Teresa, presentati brevemente al nostro pubblico. Allora sì, sono Chiara, mi chiamo Chiara Monzio Compagnoni, ho vent'anni e vengo da Monza e sono venuta qua per giocare. Dici due parole sui tuoi trascorsi agonistici in giro per l'Italia? Allora io sono cresciuta nella propatria Milano, poi ho girato un po' varie città come Chieri, sempre giovanile, sono andata a Monza dove ho vinto campionati regionali e a Verona in B1. Sei venuta qui per arricchire il reparto delle centrali in questa squadra che punta in alto, cosa ti è sembrato nei primi allenamenti che hai sostenuto assieme alle tue nuove compagne, fra le quali, ricordiamo, conoscevi già Laghezzi per averci giocato insieme nella propatria Milano. Sì esatto, conoscevo già Erika che abbiamo giocato quando io ero piccolina, Rebecca che abbiamo giocato l'anno scorso insieme a Catania in B1 e il gruppo mi è sembrato molto stretto, mi hanno accolto fin da subito come una vera squadra e sono felice di questo. Mi trovo molto bene anche con l'allenatore, con la società e sono felice.